La settimana di Violetta Nonostante le paure e le incertezze Ho troppa paura, io non ho mai studiato fuori casa Violetta inizia a frequentare le lezioni private di piano allo studio 21 Coraggio, entra dai! No, 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 accompagnami ti prego, ti supplico accompagnami No, 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 dai, dai giocare da sola mentre Thomas, dopo essere stato licenziato al resto bar Mi dispiace, ma è licenziato diventa assistente del maestro di musica Davvero lei cerca un assistente? Tu stai cercando lavoro? Sì. La presentazione del lavoro di gruppo allo Studio 21 va a gonfie vele. Non si può dire lo stesso dei primi giorni di Violetta nella scuola. Guardati da Ludmilla, è il miglior consiglio che io ti posso dare. Voglio dare una lezione a quella poveretta. Oggi festa in maschera allo Studio 21. È scappata? Ma guarda chi si vede! C'è qualcuno che approfitta subito della situazione per farsi avanti. Mi hanno fatto uno scherzo, Leon. Vuoi che ti accompagni a casa? Sei sicuro di voler lasciare Ludmilla? Sì. Voglio stare con Violetta. Sarà molto difficile stare senza di te, però... Dietro alle spalle, Ludmilla trama contro Violetta, soprattutto per allontanarla da Tomas. Riuscirò a separarli. E per sempre. Ma è evidente invece che Violetta e Tomas sono sempre più uniti. Perché non accetti l'offerta che ti ha fatto Beto di entrare allo Studio? Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Purtroppo, gli equivoci continuano. Ma Tomas non si dà per vinto. Che ci fai qui? Chi ha fatto quello lo sa che... Che tu mi piaci, Violetta. Qualcuno le ha inviato una metri in canale. È il video che hanno usato per incastrare Tomas. Sono state loro! E quando finalmente le cose sembrano essersi chiarite, si complicano ancora una volta. Per saperne di più, continua a seguire la nuova serie Disney Violetta. Da lunedì al venerdì alle 20.10 in replica alle 14, solo a Disney Channel.